Drogue addosso e nascosta dentro il bar. La polizia arresta un cinquantenne fanese e denuncia il titolare di un locale a tre ponti di Fano. Didattica a distanza, lettera aperta di una mamma esasperata che scrive al sindaco, ad Acquaroli e ai presidi delle scuole. Ridate ai nostri figli la vita che meritano, avete il compito di scegliere quale futuro dare a tutti noi. Ecco come sarà a piazza Andrea Costa a Fano, viale auto, luci a led, nuove panchine, asfaltatura, la rabbia di confcommercio, decisioni prese senza alcun confronto, discordanti invece. I pareri dei commercianti. Creare ambienti e situazioni diciamo di un bell'ambiente secondo me può solo portare giovamento nel tempo ecco. Rivoluzione parcheggi sul lungomare di Fano, contrarie alle soste a pagamento, gli esercenti e gli operatori economici di Sassonia. Senza poi chiedere un parere. Noi avevamo chiesto un colloquio con la signora Tonelli ma ancora non si è vista. Pesaro si candida a Capitale Italiana della Cultura 2024. Chiamate a raccolta le realtà del settore che vorranno diventarne protagoniste. Buonasera e bentornati su Fano TV in primo piano. Il blitz della polizia di Fano nel circolo che si affaccia sul lago Solazzi. Il controllo ha portato a un arresto ma anche alla segnalazione del gestore per aver agevolato l'utilizzo del locale come luogo di spaccio di droga. Un via e vai di persone e movimenti sospetti che non è passato inosservato ai poliziotti di Fano che mercoledì hanno provveduto a controllare il circolo che si affaccia sul lago Solazzi in zona Trepponti. Durante un blitz degli agenti del commissariato coordinati dal dirigente Stefano Seretti sono stati individuati all'interno della struttura il gestore e un socio, entrambi trovati in possesso di cocaina. Nel corso della perquisizione, poi, grazie anche all'ausilio delle unità cinofile, è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente nel chiosco bar e tutto il materiale necessario per il taglio e il confezionamento della droga. In totale sono stati sequestrati 15 grammi di cocaina e il socio del circolo, un cinquantenne fanese già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio. L'arresto è stato convalidato nel pomeriggio di ieri dal tribunale di Pesaro. Il gestore, invece, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per aver agevolato l'utilizzo del locale come luogo di spaccio. L'uomo, anche lui di Fano, è stato segnalato alla prefettura come assuntore di sostanza stupefacente. Sono in corso ulteriori approfondimenti per verificare l'eventuale provvedimento di sospensione dell'attività. E adesso andiamo a Pesaro perché oggi Angelica Panziere ha raccolto lo sfogo e la rabbia di una mamma esasperata che ha deciso di lanciare un appello affinché i ragazzi che frequentano la quinta superiore possano tornare tutti in classe e in sicurezza. È più di un anno che i nostri ragazzi, quasi un anno che in presenza hanno fatto quasi poco meno di un mese. E mi sembra una situazione che sta diventando veramente pesante per questi ragazzi. Ha voluto far sentire la sua voce forte e chiara. Federica Giorgi, mamma di due ragazzi pesaresi di 16 e 18 anni, ha scritto una lettera aperta indirizzandola a tutti i presidi delle scuole superiori di Pesaro, al sindaco Matteo Ricci e al presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli. Scrivo questa lettera per provare a far breccia nel cuore di tutti. Così inizia il testo scritto dalla giovane mamma, ma soprattutto nel cuore di chi ha un potere decisionale. Scrivo perché sono esasperata ed arrabbiata, stanca di dovermi tappare la bocca con un pezzo di stoffa che ormai ci sta facendo tacere sui nostri più sacri diritti umani. Di fronte alle telecamere di Fano TV, Federica Giorgi spiega così il contenuto della sua lettera. Questi ragazzi stanno formando il loro processo di crescita personale in un momento delicatissimo, quale quello dell'adolescenza. Ed è il momento in cui sono fondamentali i rapporti sociali, quindi i rapporti tra di loro. E in secondo caso, anche perché mi sembra ormai, diciamo, sono stanca di sentirli continuamente tacciati come gli untori del Covid o comunque come dei ragazzi irresponsabili e immaturi che fanno assembramento e non rispettano le leggi. Viene portato l'esempio dei mezzi di trasporto perché sono affollati, eccetera, eccetera. Allora io dico, anche se non ci sarebbe bisogno di dirlo, ma lo ridico, implementate i mezzi di trasporto. Trovate soluzioni affinché i nostri ragazzi possano andare a scuola in sicurezza, ma possono andare a scuola. Perché andare a scuola è sì un dovere, ma è anche un diritto dei nostri figli, un sacro santo diritto. Ed è per questo che ho chiesto un'azione di coraggio, proprio nell'etimologia della parola, cioè azione guidata dal cuore. Perché prima di scrivere ai sindaci, come sindaco, come figura importante, ho scritto proprio come un uomo, a un uomo, a un padre, a delle madri, proprio per tirare fuori queste azioni guidate dal cuore, per ridare ai nostri figli una vita che gli si sta fondamentalmente rubando. E soprattutto perché essere dei bravi politici, io credo che voglia dire anche esporsi, fare delle azioni coraggiose che portino e ridiano ai nostri figli la dignità che in parte gli è stata negata. Quindi per tutto questo ho chiesto la riapertura, ho scritto almeno al 50%, e finalmente il Tar ha dato ragione a me, e a tanti altri insegnanti e genitori che si sono uniti proprio per richiedere questa riapertura, almeno al 50%, ma rivolgiamo la riapertura al 100%, al diritto totale nei nostri figli di andare a scuola, soprattutto per i ragazzi di quinta superiore che hanno un esame di Stato da sostenere. E ancora decessi nelle marche con Covid-19. Nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 12 persone, tra cui un'anziana di 90 anni residente a San Lorenzo in campo. I nuovi positivi invece sono 437, di cui 91 nella provincia di Pesero Urbino. Negli ospedali ci sono 4 ricoveri in meno rispetto a ieri, in diminuzione sia di genti in terapia intensiva che quelli in semi-intensiva. Nuova veste per Piazza Andrea Costa a Fano. Questa mattina il Comune ha presentato il progetto da 1.400.000 euro. Allora sentiamo subito il parere della gente, ma prima ancora tutti i particolari nel servizio che è stato realizzato da Letizia Marchionni. Nuova vita per Piazza Andrea Costa di Fano è stato illustrato questa mattina dal sindaco Massimo Seri e dall'assessore Tonelli, il progetto per la riqualificazione della piazza. Un ripensamento della zona che prevede tra le tante modifiche una nuova pavimentazione in arenaria, eliminando così l'asfalto, ed uno spazio verde centrale con tanto di panchine. Gli alberi verranno mantenuti nei pressi degli esercizi commerciali per garantire zone d'ombra, mentre saranno rimossi quelli che sorgevano nei paraggi della pescheria per darle risalto. Saranno poi eliminati i dislivelli per favorire l'ingresso ai diversamente abili alla parete in cui sono presenti gli esercizi commerciali, portando tutto sulla stessa superficie del pavimento ed eliminando così il marciapiede. Sarà installato anche un nuovo sistema di illuminazione a LED, che andrà a illuminare sia l'arredo urbano che i palazzi, un modo per ridare dignità e lustro alla piazza, ha commentato l'assessore ai lavori pubblici Fabiola Tonelli. Abbiamo approvato il progetto preliminare, quindi il primo stadio per la riqualificazione di questa piazza. È un progetto meraviglioso che andrà a valorizzare tutta quell'area, tutta quella zona. Gli indirizzi sono stati principalmente quello di dare una funzione diversa da quella di parcheggio, ovviamente. Sposteremo questi parcheggi che in questo momento sono utilizzati dal pomeriggio e la sera, perché come sappiamo la mattina c'è il mercato. Stiamo lavorando insieme ad altri uffici tecnici del Comune per individuare delle aree esterne al centro storico dove creare questi contenitori. Per esempio stiamo facendo via risorgimento, che riqualificandolo, soprattutto per la sera, potrebbe essere una buona alternativa per il centro storico. Troveremo anche delle aree ancora più esterne al centro storico per mettere anche in atto questo cambio di cultura che vogliamo fare sulla mobilità sostenibile. Quindi parcheggi scambiatori e arrivare al centro storico con altri mezzi alternativi all'automobile. È un processo lungo, infatti i tempi di realizzazione di Piazza Andrea Costa non saranno di sicuro nel 2021. Quali saranno i costi? Il quadro economico dei lavori di questa riqualificazione è 1.100.000 euro. Poi comprendendo l'IVA e anche altre incariche che servono per realizzare, arriviamo a 1.400.000 euro. La nuova piazza che si viene a delineare nasce e ha le sue premesse dagli edifici che la circondano, due edifici principali che è la pescheria e il fabbricato di fianco limitrofo. Siccome hanno due passi diversi, nel punto di intersezione, nella zona antistante alla pescheria, si viene a delineare il cuore della piazza, che altro non è che l'impronta di dove un tempo sorgeva la chiesa di San Daniele. Oltre all'aspetto architettonico e storico, ha continuato Tenenti, si è guardato anche all'aspetto funzionale. Il mercato cittadino che ogni mattina si svolge nella piazza non sarà assolutamente eliminato o spostato, ma solo leggermente rimodulato, mantenendo così lo stesso numero di bancarelle. Un progetto ha poi aggiunto l'architetto Pamela Lisotta, che potrà dare nuove possibilità e nuovi sfoghi sia commerciali che di utilizzo della piazza stessa. La pescheria, che oggi è un po' un oggetto buttato lì nel mezzo, diventerà parte integrante di questa piazza. Quindi pensiamo magari anche di coinvolgere poi gli esercenti per degli aperitivi la sera, quindi coinvolgerli anche loro in un stile di vita diverso della piazza. E la cosa molto importante è che, sì è vero, si eliminano i parcheggi, ma si porta gente. Quindi è vero che tolgo il parcheggio, ma di fatto porto gente a partecipare a una vita nel centro storico che oggi non c'è. E siamo qui in piazza Andrea Costa per sapere che cosa ne pensano i commercianti della sua riqualificazione. Riqualificazione ma ci vuole la testa. Dopo il parcheggio dove va la gente a parcheggiare? C'è la gente che non può venire, gente anziana che non può venire a parcheggiare, a poter fare la spesa la sera perché la mattina c'è il mercato, tanto vale che ci fanno chiudere direttamente. Sono 12 anni che ha messo a posto la piazza, ancora devono fare il marciapiede. Il marciapiede è dello Stato, perché se io metto fuori un tavolino sul marciapiede, devo pagare il posteggio. Noi naturalmente avendo l'attività di somministrazione siamo favorevoli perché comunque sia secondo noi, a parte riqualificare questo ambiente che la sera è un po' tetro, buio e porta secondo me solo una cosa positiva per il centro storico e creare ambienti e situazioni, diciamo, di un bel ambiente, secondo me può solo portare giovamento nel tempo. Questa piazza è super viva la mattina col mercato e tutto quanto, la sera diventa veramente un posto tetro, buio e abbandonato, insomma, peggio di un parcheggio, cioè veramente. Quindi ecco, noi siamo pro a questo progetto molto. La piazza, se dai un'occhiata, vabbè adesso la situazione è grave, però credo che la piazza è in agonia. A pomeriggio ci sono tre negozi qua aperti, c'è i bar che poi adesso, vabbè, sono chiusi. Cosa vogliono fare al pomeriggio? I parcheggi comunque invece rimarrebbero utili anche a voi magari? Parcheggi sì, perché tra la mattina arrivano, prendono due pesci, prendono, ripartono, è forse un po' più utile il parcheggio. Penso che una requalificazione di un posto sia sempre una buona cosa, perché anche a livello di pulizia, di igiene, di bellezza, di estetica, è chiaro che per quanto riguarda il discorso dei parcheggi, quello può creare un problema, ma io penso che comunque a livello di estetico ci guadagniamo abbastanza. A noi per il discorso dei parcheggi fondamentalmente la mattina non è un parcheggio, quindi, cioè, a noi ci dice, non ci dice, mi dispiace per i colleghi, purtroppo, della città, ecco, quello più di tutti, loro vengono danneggiati maggiormente. E la presentazione del progetto non è piaciuta alla Confcommercio di Fano, che lamenta l'ennesimo mancato confronto con i commercianti e le associazioni di categoria. Noi siamo rimasti basiti, ma questo già da ieri, perché noi abbiamo scoperto che ci sarà, diciamo, un cambio, quindi un progetto su Piazza Andrea Costa, dai giornali, quindi da ieri sui giornali. Non sapevamo assolutamente che stamattina fosse presentato il progetto, sapevamo solo che sarebbe stato presentato in giunta la prossima settimana, proprio perché, come associazione di categoria, non siamo state interpellate dall'assessore. Spesso, anche con altri assessori, noi comunque abbiamo un confronto, una collaborazione, creiamo comunque delle sinergie, si portano avanti magari delle idee, si cerca un po' di confrontarsi, cosa che non è successa in questo caso. Tra l'altro, questo è, diciamo, una prova che era stata fatta anche a primavera, che purtroppo è stato un flop, perché non ha funzionato, anzi, ne hanno sofferte le attività economiche del centro storico, e quindi, tant'è che l'assessore poi era tornato indietro. E questo non va bene, perché comunque noi non è che non siamo per la riqualificazione, noi siamo per la rigenerazione urbana. Ciò vuol dire che la rigenerazione urbana in una città come Fano è importantissima, però dobbiamo capire esattamente come viene fatto, perché riguarda tutto il tessuto economico. Non si possono destabilizzare così gli operatori, perché già stanno facendo fatica. Il momento è difficilissimo per riuscire a sopravvivere e in questo momento arrivano le notizie di una qualcosa, riqualificazione che verrà fatta in piazza Andrea Costa senza sapere niente, gli operatori si trovano veramente destabilizzati. In questo momento la priorità è riuscire ad andare avanti, restare aperti, non chiudere la propria attività. Quindi destabilizzare così gli operatori con una dichiarazione fatta sui giornali non è assolutamente il modo di fare. E adesso torniamo a parlare dei parcheggi a Lido e alla Sassonia di Fano che d'estate diventeranno a pagamento. Oggi abbiamo raccolto le opinioni degli esercenti, degli operatori turistici e balneari. Filippo Pucci. Dopo la notizia di ieri sulla modifica dei parcheggi a pagamento nella zona mare di Sassonia e Lido di Fano, sui social è scoppiata la polemica tra indignazione e stupore su come questa scelta possa capitare proprio in un momento difficile come questo. Ad essere dello stesso parere sono gli operatori del turismo come alberghi consorziati contraria fin dall'inizio. Allora l'opinione è che in questo periodo, visto le condizioni che ci troviamo, di non farle le righe blu. Solamente che stanno insistendo e portando avanti un progetto che noi avevamo sentito ma prima della pandemia voi dovete capire chi viene in vacanza vuol lasciare la macchina nel parcheggio tranquillo. Vito è natural durante tutta la settimana dice io vado a camminare, vado al mare, vado a lasciare la macchina nelle righe blu. È un costo perché non vorrei che mi becco anche la multa così ho l'albergo, la multa e il parcheggio che non sono riuscito, devo stare sempre lì a pagare. Gli stessi albergatori lungo la costa non sono favorevoli al parcheggio blu in un periodo particolare e dove lo scorso anno di turisti se ne sono visti pochi. Ma più che il costo, perché effettivamente se costa 50 centesimi ogni mezz'ora non sarebbe nemmeno esagerato è sicuramente la scomodità del dover scendere, cercare la piazzata per il pagamento poi stare a fare sempre i conti con la mezz'ora o più, considerando comunque che nelle altre città sono tutti blu. Probabilmente nelle altre città come Cattolica, Pesaro, il lungomare è in una situazione migliore rispetto al nostro, probabilmente. Anche le concessioni balneari sono contrarie a questo cambiamento drastico e vedere nella prossima stagione estiva la sosta a pagamento non incentiverebbe le persone a fermarsi sia in spiaggia ma anche al bar o ad un semplice ristorante. C'è da affrontare poi una questione turistica, sappiamo benissimo che il nostro è un turismo piuttosto locale per locale intendo anche dell'entroterra, per cui questi parcheggi comunque disincentirebbero le persone anche a fermarsi per due o tre ore al mare o per prendere un semplice caffè o per un fugace pranzetto proprio anche prima del lavoro o prima degli impegni. Non si possono abbinare nemmeno anche questi nuovi parcheggi a disincentivare le macchine perché abbiamo una ciclabile e una pedonabile che poi è in fase di ristrutturazione, almeno c'è un progetto per ristrutturarla. Oltretutto finisco in un periodo come questo dove la gente è messa dura a prova, trovo che anche questo, soprattutto economicamente, sia un altro punto da analizzare. Io sono contrario giustamente per i parcheggi a pagamento perché questi sono tutti i residenti dove dovrebbero mettere la macchina. Chiaramente per una riqualificazione di tutta la via Dante Alighieri, questo era ora forse che si faceva anche per cominciare a riqualificare tutta la Sassonia, ma probabilmente forse non è la cosa più urgente. Ma appunto per chi lavora o abita su Viale Dante Alighieri, come ci fanno notare alcuni commercianti e residenti del posto, si ritroverebbero parcheggiate tutte le auto di Viale Adriatico con non pochi problemi e meno vantaggi per i clienti. Secondo noi, se diciamo che gli abitanti della zona non avranno più il posteggio garantito, non sapranno più dove mettere la macchina. Purtroppo non tutti abbiamo il garage. Se i posteggiatori di Viale Adriatico verranno a posteggiare in Viale Dante Alighieri, ecco quindi che ci sarà un intasamento. E' per il lavoro, noi abbiamo il bar e il supermercato, è una zona ancora che è 60 anni che lavora in questa zona e non mi sembra giusto che sia penalizzata per queste cose, senza poi chiedere un parere. Noi abbiamo chiesto un colloquio con la signora Tonelli, ma ancora non si è vista. Era stato annunciato lo scorso dicembre e ora Pesaro si mette al lavoro per diventare capitale italiana della cultura nel 2024. Oggi pomeriggio il Comune ha tenuto un incontro online con tutte le realtà del settore per condividere questo percorso. Una candidatura che nasce dal lavoro fatto in questi anni, prima sugli anniversari nazionali e internazionali legati all'anniversario di Rossini, poi al riconoscimento UNESCO del 2017. La volontà di correre a Simurbino per la capitale europea della cultura nel 2033, crediamo che questo 2024 possa essere una buona palestra, non solo per sperare di vincere e di aggiudicarsi questo importante riconoscimento, ma perché crediamo che competere a queste iniziative, proprio come ha fatto Ancona, sia un modo per mettersi in gioco, per soprattutto sviluppare un rapporto con tutti gli attori culturali ed economici del territorio. È così che la spenderemo. Non sarà una candidatura solo di Pesaro, coinvolgeremo tutti i comuni della provincia e su questo ovviamente anche un ragionamento con gli altri comuni della regione per farne una candidatura che sia il più collettiva possibile e soprattutto coinvolgeremo gli artisti, coinvolgeremo le realtà creative, non solo la musica naturalmente, ma anche l'artesanato, il video, il cinema, il design, la letteratura e la gastronomia. Un lavoro come questo di candidatura che appunto porta a mettersi in gioco, a tessere relazioni e promuoversi un po' a tutti i livelli, sia anche un ritorno di promozione turistica per Pesaro e per il nostro territorio regionale e quindi anche di questo obiettivo mettiamo in posizione il nostro lavoro. E anche questa sera diamo spazio alle vostre segnalazioni. Un nostro reporter di strada ci ha inviato questi video scrivendoci Secondo voi è tollerabile che nella terza città delle Marche le deiezioni dei nostri amici a quattro zampe infessino le strade della città e la bella passeggiata dell'Isippo? La Sassonia, si chiede il telespettatore, è uno spazio riservato ai bisogni dei cani? Perché non realizzare delle aree dog free e quindi libere appunto per i nostri amici a quattro zampe? E un'altra segnalazione ci è arrivata per lo stato in cui versa questa croce è posizionata in una rotatoria di fano tra via Falcineto e via Caio Muzio-Scevola. Qualcuno dovrebbe sistemarla prima che succeda qualcosa, ci ha detto la segnalatrice, così è pericolosa. Adesso vi mostriamo altre foto ma che riguardano una tartaruga marina di 60 kg della specie caretta caretta salvata in Baia Flaminia Pesaro. Ricevuta la segnalazione sono intervenuti i militari della Guardia Costiera che hanno notato un comportamento strano dell'animale. Infatti la tartaruga di una lunghezza pari a 80 cm al carapace e di un'età stimata di circa 25 anni sembrava volesse rimanere sul bagnasciuga. L'esemplare, chiamato Flaminia, è stato trasportato al centro tartarughe marine di Riccione per gli accertamenti veterinari e dalle prime ore di questa mattina è apparsa già in fase di ripresa. La tartaruga è stata affidata alle cure della Fondazione Cetacea di Riccione. E con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. Io vi auguro una buona serata. L'informazione, come sempre, torna domani mattina alle 7 in diretta con la Rassegna Stampa. Arrivederci.